L'Abruzzo parla sempre più giapponese. Dopo la visita nel 2008 della troupe di BSNipponTV che volle realizzare un reportage su Pacentro e dopo che la scrittrice giapponese Yasuko Ishikawa, stregata dalla bellezza delle montagne e dei paesaggi abruzzesi, ha omaggiato la nostra regione con il libro Abruzzo Misterioso, anche quest'anno la BSNipponTV ha puntato gli obiettivi delle proprie telecamere su un'altra perla d'Abruzzo, Anversa. La serie giapponese di documentari dedicati ai paesi abruzzesi si chiama Chisana Murano Monogatari, letteralmente racconti di piccoli villaggi, ed è stata trasmessa oggi alle 21 ora giapponese e 13 ora italiana. Nel programma verranno scoperte oltre alle bellezze naturali di Anversa anche le antiche tradizioni locali che tanto affascinano il popolo nipponico. La richiesta di pacchetti che comprendono oltre al solito itinerario turistico anche l'Abruzzo sta lentamente aumentando in Giappone, grazie soprattutto al lavoro dell'Associazione Abruzzo-Giappone che continuamente promuove le bellezze della nostra amata regione giapponesi. Sembra infatti che l'Associazione abbia fatto da apripista verso una regione, l'Abruzzo, fino ad ora praticamente sconosciuta al popolo nipponico ma che potenzialmente ha tanto da offrire.